Adesso scendo. Ho passato la mia vita a cercare di scoprire i segreti di questo mondo. Da dove arrivano le macchine. Come hanno fatto i predecessori a compiere meraviglie simili per poi annientarsi. Una vita di fallimenti. Anno dopo anno, decennio dopo decennio. Solo muri indistruttibili e porte inaccessibili. Salve. Finché una Nora non ha lasciato il selvaggio Est. E... ecco fatto. Per lei... I segreti della Terra sono stati messi a nudo. Sospetto che avrai molta più fortuna di me con questa porta. Attendere identi-scam. Identità genetica confermata. Ingresso autorizzato. Errori. 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 Sto scherzando? Io non sto ridendo. Zitto tu. Ci deve essere un modo. Ehi! Elisabeth Sobek qui! Richiedo l'accesso! Accesso richiesto. Funzioni di comando centrale disponibili. Si intende procedere? Certo, apri questa maledetta porta! Analisi. Accesso primario inutilizzabile per errori meccanici. Ventilazione di emergenza in grado di aggirare il blocco. Si intende procedere? Sì. Ventilazione di emergenza autorizzata. No! Ti ho sottovalutato. A questo punto... Immagino non si possa aver tutto. Questo attirerà l'attenzione. Non resteremo solo in questo posto per molto. Noi! L'ultima volta ero io l'unica a rischiare la vita. Quaggiù! Sì, va bene. Ora ti daresti una mossa. C'è molto da imparare e meno tempo del previsto. No! No.